Oggi vi voglio far vedere come proverò a sistemare in economia una porzione di parete che ha subito un'infiltrazione d'acqua Adesso praticamente io ho queste macchie con quello all'intorno che è caduto Adesso con raschietta e marzetta cercherò di togliere tutta la parte ammalurata In modo che poi ci andrò ad attaccare le mattonelle per evitare, sì no senza, per bellezza ci mettiamo le mattonelline Facciamo voglia di ripitturare il sistema, adesso questa è la situazione iniziale, adesso fra un po' vi faccio vedere il continuo Allora siamo arrivati un pezzo avanti, ho preso un moto picco e ho tolto tutta la parte che si distaccava La parte dell'intorno che si distaccava e sono arrivato al cimento Adesso io vorrei qui, adesso finisco di dare una bella pulita per togliere la polvere in eccesso Poi dopo vi faccio vedere cosa ci metterò, una cinesata ci metto però dovrebbe fare un bel effetto Adesso comunque questa è la parete quasi pronta per la posa di quello che voglio fare E poi da lì farò uno spigolo con delle mattonelle che scendono, poi ve la faccio vedere Bene, questo è il secondo punto, adesso vado avanti Dopo aver pulito la parete, ecco qui che ho iniziato ad attaccare le mattonelle Mattonelle, adesso dire mattonelle è una roba grossa però fanno un riporco effetto Sono delle mattonelle in polistirolo con l'adesivo dietro Cinesata, comprata su internet Però insomma fanno il loro, adesso questa è imparchettata Fanno il loro effetto, io le attacco su, ci ho messo anche una poccettina di silicone proprio per far sì E praticamente questo mi dovrebbe garantire il fatto che sta parete essendo un po' umida Adesso a parte l'infiltrazione era umida del suo Mi garantisce anche il fatto che non mi viene fuori l'umidità e mi mantiene Mi fa tipo tra virgolette l'accappotto termico anche se molto fino Ho speso quattro soldi e adesso dopo vi farò vedere questo Adesso siamo un pezzo avanti Adesso fra poco fammo il video finito E dopo aver visto la situazione come era prima Questo è il lavoro finito Montati E la parete sembra un'altra Da sotto siamo partiti Tac 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 Sembra un'altra parete ragazzi Semplicissimo Abbiamo speso zero, praticamente pochissimo In mezza giornata è muffata Adesso non so quanto reggerà nel tempo Però per adesso appena fatto È molto bello Veramente spettacolare Andiamo qua La terra Fa isolamento Ed è anche decente a vedere se Porta sotto C'è sotto A posto Grazie Grazie a tutti Ciao In questo video Grazie a tutti Per aver guardato in vernice Atroccio Grazie a tutti.